Arriva la fase finale, il secondo concorso internazionale Fiorenzo Serra per film e documentari etnografici. Questa edizione è dedicata a produzioni filmiche e documentaristiche su artigianato tradizionale e artistico. Il concorso è intitolato a Fiorenzo Serra, sardo illustre, sassarese, cineasta prolifico e instancabile. I lavori pervenuti alla segreteria del concorso sono stati 60, da Asia, America, Africa e ovviamente Europa. Il gruppo più consistente è quello dei film italiani, alcuni scritti e prodotti a quattro mani, ambientati sia nella penisola che in nazioni estere. 13 invece sono quelli realizzati da film makers sardi e ambientati in Sardegna. I film hanno un taglio documentaristico tradizionale, ma alcuni hanno caratteristiche quasi di fiction. Raccontano ciò che accade in diverse realtà del mondo, spiegano Alessandro Doneddu, Simone Ligas e Joseph Pintus, del laboratorio di antropologia visuale Fiorenzo Serra della società umanitaria Cineteca Sarda. Tra gli obiettivi del laboratorio c'è quello di sviluppare progetti con l'Università di Sassare e l'Accademia di Belle Arti per far conoscere i filmati, creando anche una banca dati. Il 15 dicembre, nell'aula magna del Dipartimento di Storia e Scienze dell'Uomo in via Zanfarino, si terra la giornata conclusiva e verranno premiati i vincitori.